Commenta il fatto del giorno Enzo D'Antona, direttore di Il Piccolo. Oggi parliamo di Al Capone, il più famoso e forse anche il più importante gangster di tutti i tempi. Al Capone non è soltanto il più famoso gangster di tutti i tempi, è quasi l'archetipo che poi è diventato mito della mafia. E' importantissimo perché studiando Al Capone possiamo vedere come la mafia è stata rappresentata nel cinema, nella letteratura e come la stessa mafia ha rappresentato se stessa all'interno della sua organizzazione. Al Capone ha fondato una maniera di essere, una maniera di sentirsi, che poi è stata mutuata da alcuni altri grandi mafiosi, per esempio il sigaro di Luciano Ligio, è in realtà il sigaro di Al Capone o i primi omicidi di Luciano Ligio sono fatti con un mitra Thompson che è il mitra utilizzato da Al Capone nella famosa strage di San Valentino. Al Capone, pur non essendo siciliano, venne accolto in questa famiglia mafiosa siciliana e poi in anni in cui lo Stato, in questo caso gli Stati Uniti, erano impotenti nella lotta alla criminalità organizzata e il sistema giudiziario non funzionava, si riuscì a incastrarlo soltanto per frode fiscale. Quello stesso tipo di situazione si riprodusse in Italia quando ci fu la grande guerra di mafia con la mattanza, con l'avvento dei Corleonesi quando quattro regioni italiane sostanzialmente erano fuori dal controllo dello Stato e la mafia imperava in maniera assoluta. Fra l'altro uno dei compagni di Al Capone, il più importante forse dei mafiosi della storia, cioè Lachi Luciano, fu protagonista dei primi contatti, delle prime trattative fra lo Stato e la mafia.